Sera ragazzi, è finito da 2-3 minuti il primo tempo di Juventus-Roma il risultato è di 0-2 per la Juventus, gol di Demiral e di Ronaldo ma non voglio parlare di questo per adesso purtroppo si sono fortunati due giocatori, uno della Juve e uno della Roma il primo è Demiral, il dimensore che sta facendo bene nella Juve e il secondo è che speriamo, spero che non sia niente di che Zaniolo penso che quello di Zaniolo sembrerebbe più grave di quello di Demiral spero di sbagliarmi, spero che entrambi alla fine abbiano un'auto che sta un po' muscolare spero che sono ottimi, sono giovani dai, non parliamo di sport, sono giovani mi dispiace un casino con le lacrime di Zaniolo eh, di Zaniolo eh, sì, sì ho visto l'ho con la gamba in pratica Zaniolo si è messo a cuore, si era diruato mezza squadra e fra De Litt e Rabiot poi si è infortunato vediamo, speriamo che i risultati medici diranno che è risultato buono che non ha qualche lesione Demiral invece è saltato e si è infortunato da solo partita stregate, speriamo non si è infortunato più nessuno sentiamo una seconda, poi ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti